Buonasera, ben trovati. Due parole, due considerazioni. Innanzitutto le banche. Quelli come me che sono cresciuti all'epoca di Battisti, non Cesare, Lucio, hanno imparato che quando ci si lascia non bisognerebbe frequentare gli stessi posti per evitare di farsi del male. Effettivamente su palchi analoghi a questo sono saliti negli anni dirigenti di grossi gruppi bancari che ci hanno spiegato in tono accorato che avevano in petto un cuore fiaico. Però siamo nell'epoca dei trapianti. Io devo dire che della poesia ce l'avevo vista, però mi è successo anche alla maturità. Avevo puntato su Montale e mi è toccato Quasimodo ed è subito casa. Ed è per questo che mi fa piacere, mi ha fatto piacere avere qui un gruppo bancario che crede nella collaborazione e che non ha dimenticato il suo core business, col quale potremmo probabilmente fare tante cose assieme. Perché quando si dimentica il core business si finisce come imposta dove entri e vuoi comprare un francobollo, ma loro ti vendono un libro, una birra, un contratto telefonico, però se vuoi comprare un francobollo devi comprarti il gronchirosa all'ufficio filatelico se no esciva in tabaccheria. Ed è importante, anche noi abbiamo un nostro core business, non dobbiamo dimenticarcelo. Anche noi abbiamo i nostri limiti e per questo che le collaborazioni, le sinergie, l'abbiamo visto anche oggi, servono. Per il resto sarà una lotta di posizione con chi pensa di poter invadere il nostro territorio. Però il territorio lo si difende, mi spiace dirlo, in quest'epoca facendo dei muri, opponendo dei cavalli di frisia, non le bancarelle della festa del tottello. E allora dobbiamo fare un'altra considerazione che quando vengono qui questi grandi personaggi, negli anni abbiamo imparato a non farcela raccontare. Quello che non abbiamo ancora imparato è non raccontarcela noi. E poi saliamo su questo palco, succede una cosa che magari succederà anche a me adesso, per cui diciamo delle cose nelle quali crediamo. La professionalità, la preparazione. Poi queste cose le dobbiamo applicare nella vita di tutti i giorni. E allora, casomai, non dobbiamo il giorno dopo andare da un'altra associazione rappresentativa a fargli registrare un contratto perché non abbiamo voluto imparare come si registra telematicamente un contratto. Non dobbiamo, abbiamo combattuto per fare i preliminari, non dobbiamo chiamare il collega e dire, lo so, però com'è la differenza tra paraconfirmatorio e penitenziale? Paolo Papi, hai detto una cosa bellissima, siamo fermi al 1754, solo che qua hanno capito che è l'anno. Hai capito? È più di uno. Noi abbiamo e avremo nei prossimi anni una battaglia in corso molto dura, molto importante e la dobbiamo vincere, come hanno detto i colleghi qui, con l'arma della professionalità, con uno standard minimo di servizi che noi dobbiamo assicurare al nostro cliente. Che non passa neanche per il codice deontologico, è importante, ma se dovessimo applicarlo oggi, come oggi è la lettera, dovremmo mettere una vetrofania sulle nostre vetrine che ho scritto sopra, non FIIP, ma i Fantastici Quattro, andrà bene i Magnifici Sette, ma ai dodici apostoli non ci arriviamo. Non passa neanche e solo per la lotta all'abusivismo, perché la lotta all'abusivismo è importante, ma talvolta, non dimentichiamocelo, l'abusivo è più preparato dell'associato. Questo è un problema, perché talvolta è l'abusivo che fa fare cattiva figura all'associato. Mi spiace che non ci sia senatore Gaspari, se no gli avrei spiegato la differenza tra il mago vero e il mago abusivo. È l'unico caso in cui se sparisce è quello vero. Detto questo, buon lavoro a tutti.